Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono Erika. Nel video di oggi, come avrete letto dal titolo, andremo a trovare il nuovo fondotinta di Uda Beauty che ha fatto uscire qualche giorno fa il Faux Filter Luminous Man Foundation. Però io ho anche quello vecchio e quindi ho pensato di compararli e vedere un po' le differenze e se cambia qualcosa, se è migliorato, se è peggiorato, se è rimasto uguale. Ricordatevi però che se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al canale perché sennò prenderete 7 anni di sfighe di lasciare un pollice in su se questo tipo di video vi piace e di commentare, mi raccomando, con qualsiasi sia la vostra opinione. Io ho preso dei due fondotinta la stessa colorazione, che in questo caso è Cashew 140G, credo di averlo pronunciato bene. Questo fondotinta lo conosco benissimo perché l'ho utilizzato, strautilizzato e anche, credo, quasi finito, nonostante il pack sembra sempre colorato, si sente dal peso che è quasi finito. Questo è un fondotinta super hyper full coverage, è anche molto secco, tende a screpolarsi un pochino se avete la pelle troppo secca, veramente ha una coprenza altissima, bastano semplicemente due pump, due pump e mezzo per fare tutto il viso. Infatti io questo tante volte lo mischio ad altri fondotinta idratanti o idratto per bene 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 la mia pelle sotto perché veramente non mi piace l'effetto che fa intorno al naso, essendo che ha una corposità molto densa, te ne andrei via molto prima. Però io ho preso anche il suo Water Jelly Primer Idratante. L'ho già provato sulla mano, è molto geloso ma proprio si sente che è a base d'acqua, quindi molto molto idratante perché scivola via. In realtà io non volevo utilizzare questi due fondotinta con una base, lo promette di essere un Faux Filter Luminous Matte Foundation, quindi un matte che comunque tende ad essere più luminoso però lei ha detto che qui è senza profumazioni, mentre invece questo ha una buona profumazione e a me non dispiaceva. Lei dice di utilizzare semplicemente uno massimo due pump per tutto il viso con un pennello da fondotinta fitto oppure con una beauty sponge. Io non so se questa l'andremo ad utilizzare oggi perché comunque con questa base sarebbe molto più idratante, invece io voglio farvi vedere proprio il risultato di questi fondotinta. Io direi di cominciare. Comincio con quello classico e lo andremo a mettere dalla parte mia, in questo caso sinistra. Andremo con due pennelli da fondotinta, entrambi fitti. Vado a mettere due pump sulla mano, uno e due. Lo vado a prelevare. Ancora ho prodotto e già ho quasi fratto tutta la faccia, però io non ho pensato che è vero, devo fare metà faccia, quindi bastava un pump. Grande Erika, grande. Vado con la spugnetta bagnata a spalmarlo e questo tende anche già ad asciugarsi un pochino da solo. Ok, dovremmo esserci. Questo è il risultato. Allora, possiamo ben vedere che la coprenza è assurda. Ha tolto tutti i rossori, è andato anche a levigare, è comunque da settare. Vi faccio vedere com'è. Ha un effetto abbastanza gessoso. In questo caso io comunque l'ho sfumato bene, ha avuto un bel risultato, rimasto comunque non è che fa proprio l'effetto muro-cemento come tanti dicono. A me piace questo fondotinta. Con la spugnetta togliamo anche l'eccesso, penetra bene nei pori. Questa è la coprenza. Potete ben capire che io anche con un correttore abbastanza leggero, che ho delle occhiaie pronunciatissime, vado tranquilla. Infatti in combo col suo correttore e la sua cipria è top. Quindi io direi di andare a vedere l'altro. E io spero che non sia un epic fail, se veramente non rimane neanche un po' più luminoso, perché comunque ha un effetto matte, però teoricamente dovrebbe essere, lo metto sull'altra mano, dovrebbe essere un po' più luminoso. Proviamo con un pump. Ho cambiato anche il pennello. Come colore dovrebbe esserci, più o meno. Comunque devo andare a mettere un altro pump, perché uno è troppo poco. Allora, io già così spalmandolo posso notare che è molto più leggero e credo che lo possiate vedere anche voi. Di qua sento tirare molto di più il viso, non so perché. Questo lo sento molto più leggero, quasi come se non ci fosse. Il colore è lo stesso, dai. Adesso questo si è leggermente settato, ha cambiato leggermente, ma il colore posso dirvi che è lo stesso. Quindi se avevate già l'altro, prendete assolutamente la colorazione che avevate, se vi va bene. E questo devo dire che due pump, va bene per un effetto molto più leggero, però questo, quell'altro, il matte proprio full, con due era abbondante se avete visto. Qua quasi quasi non c'è neanche bisogno di andare con la spugnetta, non so se avete notato. Mentre di qua, con il pennello avevamo bisogno di andare a passare la spugnetta perché avevamo un sacco di strisciate, un sacco di prodotti in più. Io ho usato sempre due pump e l'ho finito tutto. Allora, ditemi voi se con luce puntata vedete differenze. Se vedessi una persona truccata così direi che ha usato lo stesso fondotinta, sono sincera. Per le sensazioni che sento sulla pelle, questo tira veramente tantissimo perché in genere io non lo utilizzo mai così sparato sulla pelle senza niente. Qui la tempia e questa parte qui che è la mia parte leggermente più secca. Se andate più volte nello stesso punto tende a creparsi. Vedete io sono passata col pennello. Tende a creparsi questo qui. Anche se fissato ed è l'unica pecca che non mi piace di questo fondotinta. Era questo che io temevo di aver speso 40 euro per lo stesso fondotinta. Io volevo finire quello per andare avanti con altri fondotinta. C'è una leggera luminosità in più qua nello zigomo. L'unica cosa che sento veramente sulla pelle ed è questo che io non volevo, per questo non volevo mettere un primer, è che qua sento da morire a tirare tutto. Lo sento tirare tantissimo. Mentre di qua no. Quindi evidentemente qui ha una percentuale magari di acqua che lo rende più leggero perché lo avete visto anche voi dalla stesura che era già molto più leggero, molto più fluido. E questa è la differenza che io vedo molto di più. Anche toccandolo mi sembra che di qui ci sia molto meno prodotto utilizzando la stessa quantità di pump. Assolutamente, come dice lei, non ha odore quindi se vi dà noia. Questo ha un odore assolutamente di cocco che io adoro, va bene, che è presente nel correttore, cipria, contour, è presente ovunque. Questo assolutamente è inodore come lo è anche questo perché ieri lo hanno usato. Chissà, ovviamente si sente che voi avete un qualcosa di chimico sulla mano ma non è profumato assolutamente. Quindi questo è veritiero. Questo però dice di essere un luminos matte. Quindi comunque tenere il matte ma essendo un po' più leggero, un po' più luminoso. Questo lo posso capire ma di luminoso ha veramente poco. Direi che finisco la mia full face, finisco tutto. Ne parliamo, voglio vedere anche come si comportano i prodotti sopra. Eccomi tornata. Un look molto soft. Non ho fatto baking, non ho fatto niente, ho usato il correttore di Uta e questo è l'effetto delle due basi. Devo dire che i prodotti da questa parte si sfumavano molto meglio rispetto a questo. Questo facevano un po' di fatica e infatti vedete anche la differenza tra i due illuminanti che ho usato lo stesso di Natasha. Devo dire la verità che fissato sono due fondotinta che a parte qualche minima differenza non mi grida oddio comprami che sono la rivoluzione come invece la presenta lei. Io sono per Uta, amo Uta e mi piacciono i suoi prodotti però a parte la leggerezza che fa tanto perché questo fondotinta è veramente pesante, fa tanto. Il fatto che si sente molto meno sulla pelle, che non abbia odore, non ho visto questa grande differenza, voi l'avete visto con me. Mi aspettavo molto di più, ecco, cioè mi aspettavo una bella, un luminoso molto più luminoso, nonostante mantenga il matte, è vero. E l'unica cosa è che lei appunto sul suo canale, quando ha fatto il video del lancio, lei utilizza, quando fa la base, utilizza il suo prodotto per viso e corpo, il Nymph, credo si chiami, che è già quello dà una luminosità alla pelle che ciaone. Magari posso provarlo con questo sotto, magari con questo sotto faceva una base perfettissima, magari vi aggiorno su Instagram, però, o magari più in là facciamo una base insieme. Però io l'ho voluti provare apposta in questa maniera qui per vedere le loro potenzialità, perché quando si prova un prodotto si prova senza niente che possa condizionarlo. Non volevo condizionare né l'effetto di quello ultra matte né questo qui, che magari quello ultra matte lo rendeva più leggero e più fluido e quello super luminoso, cioè quello luminoso lo rendeva ancora più luminoso e quindi se voi non avete quel prodotto e andate a prendere solo il fondotinta dite, però a me quell'effetto non me lo fa e quindi per questo ho voluto provarvelo così. Se devo essere sincera, se dovessi scegliere un domani tra ricomprare uno dei due, comprerei questo qui luminos matte per il fatto che, non per la luminosità, ma per il fatto che è molto più fluido e molto più agevole, molto più leggero. Si sente molto meno sulla pelle, nonostante faccia abbia la stessa coprenza, abbia lo stesso risultato. Quindi devo essere sincera, se dovessi comprare uno dei due, comprerei questo. Per altre differenze il profumo a me non dispiace, anche perché non si sente, non è così aggressivo. Devo riprovarlo magari con il primer, ecco. Io spero che questo video vi possa essere stato utile, che vi possa aver intrattenuto, che abbiate potuto vedere con me le differenze. Quindi io vi ringrazio per essere stati con me, ricordatevi di iscrivervi al canale perché siamo quasi ai 300 iscritti. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!